Il centro di Taranto si ripopola all'improvviso con i primi segni di una domenica di giugno che mette finalmente le insegne di un'estate agognata. Taranto ritrova una domenica da passeggio. Migliaia i cittadini per strada con il centro fino davvero a tarda ora invaso da intere famiglie comitive per la festa a colori che ha coinvolto il commercio in un borgo che ha bisogno soprattutto di iniziative per dare impulso alla propria economia e alla voglia di ripresa. I problemi della quotidianità che ci tocca vivere, i riflessi angoscianti di scelte economiche lontane non possono assolutamente fiaccare l'ansia di uscire al più presto dalla paralisi che sembrava avere impigrito anche le migliori intenzioni e intelligenze. Va bene Borgo a colori, andrà bene con le altre iniziative che si vorranno mettere in cantiere. L'importante sarà dare delle convinte spallate alla rassegnazione con la gioia di poter contribuire alla ripresa della città più bella che ci poteva capitare, la nostra.